Dopo alcuni giorni dal mio insediamento ad Alatri, fui chiamato dalle sorelle della signora Pirro per portare il conforto di Dio alla povera donna che stava morendo per una grave malattia ereditaria. Per quella triste circostanza arrivò da Torino anche la figlia della signora, che pareva assistere alla lenta agonia della macchia con espiegabile indifferenza. Ma cosa sta facendo? La prego, la smetta. Deve pagare per tutto il male che mi ha fatto. Ma lei è pazza. Cosa stanno facendo di là? Non lo so, adesso vado a vedere.